Sette regioni e oltre mille comuni potranno andare al voto con l'Election Day il prossimo 31 maggio. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli Interni Angelino Alfano, ha approvato infatti nella serata di ieri un decreto legge che fissa l'Election Day per le prossime elezioni regionali ed amministrative e stabilisce che la prima domenica utile è proprio il 31 maggio 2015. Nel comunicato diramato al termine della riunione si legge infatti che il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che al fine di consentire lo svolgimento di tutte le consultazioni elettorali in un'unica data interviene appositamente per rendere più flessibile l'arco temporale entro il quale può realizzarsi la condizione per lo svolgimento in forma abbinata di tutte le elezioni stabilendo con riguardo alle elezioni regionali che la loro celebrazione può avvenire nella prima domenica successiva a 60 giorni dalla scadenza di mandato. Le regioni nelle quali si andrà alle urne in primavera sono 7, Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Campania e Puglia. In tutto si tratterà di poco più di 17 milioni di italiani, il cui voto inevitabilmente verrà letto anche in termini di tenuta degli schieramenti e delle alleanze politiche a livello nazionale e del peso del governo. Nella stessa giornata di maggio, destinata appunto ad essere Election Day, si voterà anche per il rinnovo di consigli e sindaci di ben 1089 comuni, tra cui 18 città capoluogo. Tra questi ci sono Matera, Andrea e Trani. Intanto però proprio questa decisione del Consiglio dei Ministri di fissare l'Election Day al 31 maggio sta suscitando qualche polemiche perplessità. Il rischio infatti è che gli italiani preferiscano la gita fuori porta, complice il ponte con la festa del 2 giugno, piuttosto che recarsi alle urne.